Allora, oggi 27 aprile 2016, un'altra giornata Notav, siamo al cantiere di Chiomonte in larga compagnia, una fermante Notav ci racconta cosa succede. Oggi Blu è venuto a farci un murale sospettacolare, dove va già a farlo la volta precedente, però la polizia ci ha impedito di farlo, ci ha impedito mettendo barriere e defender la protezione di quest'area e noi oggi siamo qui, Blu ci ha fatto il murale e noi siamo felici. E adesso ho da fare, scusa ma devo andare.